Dopo tutti i disastri che abbiamo combinato allo Santos, è arrivato il momento per noi di essere chiusi in prigione Ma ci resteremo per molto poco tempo E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che sei di chiama GTA 5? E siamo tornati con una nuovissima challenge, molto difficile e molto particolare stavolta Vuoi spiegare di cosa si tratta? Sì, ci stavamo annoiando su GTA e abbiamo pensato, ma non abbiamo ancora fatto una challenge nella prigione Eccoci qui, come sempre però ci complichiamo la vita, quindi vogliamo entrare nella prigione Arrivare a quattro stelline, uscire dalla prigione e seminare la polizia, ovviamente senza chiamare Lester Quindi, non vorrei dire, ma io la vedo proprio come la challenge più difficile che abbiamo fatto E sinceramente penso che fallirà miseramente Ok Ci mettiamo in palio un 500.000 dollari che possiamo usare per il SEO, il motorcycle club e quelle cose Ma tanto, secondo me, non li vedremo mai Io la vedo dura oggi, però mi piace l'idea di provarsi Esatto, facciamo qualche tentativa e vediamo se ce la facciamo Allora, io ho pensato, entriamo in l'elicottero Ok, e fin qui ci sta Arriviamo a quattro stelle e fin qui ci sta Ma usciamo con l'elicottero stesso, quindi dovrei cercare di parcheggiarlo O cerchiamo di uscire a piedi e prendiamo una macchina Non lo so È lì il mio dubbio, capisci? Perché dipende, se cerchiano l'elicottero in qualche modo te lo fanno esplodere Te lo fanno esplodere, esatto Non lo so, allora io direi di entrare e improvvisare, come sempre Vediamo un po' la situazione e poi magari organizziamo qualche piano migliore Sei sicura che la cosa è migliore? Entrare a caso Ma così che si fa? Cioè io Adesso tu hai delle prigioni, ci entri e poi vedi quello che succede, no? Di solito si fanno i piani, non so se ti sei guardato altri film e preso un break, capito? Magari qualche piano strano Eh ma loro dovevano uscire e non entrare Eh ma magari hai fatto un accordo con qualche prigioniero che nel mentre ha preparato la fuga E tu vai, entri e con loro Muoviti, no, no, non ci sta, tu vai Buongiorno signore, possiamo... Aspetti, 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 non è un'arma quella che ho mano Buongiorno, buongiorno Era finta Possiamo fare una visita? È uno scherzo Che fa? No signora Attenta No ma sto solo correndo che non mi scoccino No non si può fare niente Ti sta guardando male Ma non posso entrare, non ci fate fare un giro turistico? Andiamo, sei pronta? No Non so quante stelline ci da entrare, se tre o quattro Però atterriamo proprio dove ci sono i prigionieri Buongiorno prigionieri Salve Aspetta No, non prendere Ok Oddio, 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 lo fai fuori Buongiorno Salve Eh, quattro stelline Quattro instant No, allora arriviamo almeno a cinque Ok Dai, se non è troppo semplice Eh, però ci dobbiamo barricare da qualche parte, allora Qua Ma non è un buon punto Lo so Ah, dove sono gli elicotteri che li faccio fuori? Gli elicotteri arrivano Tu pensa agli elicotteri o penso ai poliziotti? Ah, ok, stavo già cecchinando Eh, esatto, stavo facendo la stessa antica cosa Ah, dove è l'elicottero? Eh, boom Ok Ce ne abbiamo un po' troppi sopra la testa gli elicotteri Allora, li vedo vicini Eccolo, eccolo, dove sei Eccolo Dimmi che ce le fai? Sì Ottimo Bravissimo Anche perché fanno scendere poliziotti Quindi cerca di distruggerli tutti Allora, coprimi Ok Coprimi che cerco l'altro Vai, 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 vai Allora, controllo il volo con M se ho dei giubbottini e dei proiettili Eh, vabbè, ma sti elicotteri arrivano come se fossero funghi, eh Beh, siamo in una prigione di alta sicurezza qua Sto anche finendo i missili Te lo dico, me ne avanzano quattro Ne ho solo due, ne ho solo due Ne stanno arrivando anche altri Io ne ho quattro Ho pensato alla polizia Mettete il fucile a cechino Allora, quello che sta arrivando, li diamo il buongiorno Buongiorno, elicottero Mi ha schivato Cioè, ma come? Mi ha schivato Oh, a me non ne ha schivato uno Quindi secondo me il problema si Mi ha rischivato Ok Quale è andato? Cinque, cinque, cinque Ce l'hai anche tu? No Come no? Io le ho fatte Eh, oh, mi spiace che adesso sono ancora quattro Ma come? Che tristezza Eh, ma sono più elicotteri Andiamo, 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 andiamo Eh, abbiamo qualcosa sopra Dobbiamo stare attentissimi Eccolo Pum Ok, sparato Continua a correre Ok Continua a correre Usiamo l'elicottero come copertura Eh, facciamo arrivare a me a cinque stelle E cerchiamo di scappare Ok Eh no, dobbiamo essere tutti e due a cinque stelle Non vale altrimenti No Ti hanno ucciso? Sì No Cioè, sei stato troppo lento a fare le cinque stelle Non ci puoi mettere così tanto E non è colpa mia Eh sì, che colpa Mi hanno schivato i proiettili Sono a cinque stelle adesso però Eh vabbè, grazie al cavolo Ma che ti serve? Uffa Scappo da solo Ho uno di vita Basta che mi colpiscono un'altra volta e sono morto Per Eniki Sono morto Oh no Guarda l'elicottero Eh, lo sto vedendo Ero davanti a te a godermi l'esplosione Facciamo una partitina a freccete per smaltire la tensione? Ma perché mi hai portato in questo posto terribile? Per giocare a freccete Vabbè, io sono vestita malissimo Quindi aspettami, siedo qua con loro Salve Salve, mi offrite una birra? No Non te la offre nessuno vestita così, cara Eh ragione Nessuno ci tiene Mi sa che anche nella mia bruttezza sono troppo elegante per sto posto Dici? Si stanno guardando tutti, sai? Allora, le mie scarpe sono bellissime Sono intonate al vestito Quindi non mi guardate male, ok? E poi siete vestiti più brutti voi Io non ho idea però di come si giochi a freccete Ma stavo scherzando Dura tipo 40 minuti Dura più della challenge Lascia perdere Ma davvero? Si, si, si Meglio lascia perdere Ma io non volevo fare adesso No, no, no Un'altra volta Cioè mi è illuso Si, esatto Si, era giusto per farti passare un po' di tensione E per farti guardare male Che hai fatto? Ho dato un calcio al muro Andatevene Così imparate a guardarvi male Guarda, non avete ancora capito chi regna qui Allora Che fai? Allora Guarda che è iniziato lui Rizzata bar Rizzata bar Rizzata bar Lui? Non l'ho iniziato io Ti sta Non ci provare Guarda, non ci provare mai più Guarda, ti fai picchiare e pestare pure da una donna Sei una vergogna Eppure te Guarda Io te vi ammazzo tutti Vi ammazzo tutti Ma qua Aia Ma che sento io? Togliti Non è possibile Ma perché? Io vi pesto Mi pesto malissimo Vi imparate Ecco qua Togliti però Andiamoci Dai Mi sono stancata È noiosa questa rissa Guarda Cioè siete una vergogna Prima guardate male Poi non avete neanche il coraggio di fare appugni come si deve Ma dico io Ma che persone da bar siete? Che persone? Guarda Non fa con te Sono pronta Andiamo Andiamo con questa macchina Vieni qua Vieni qua Abbiamo un nuovo piano Diciamo che Io avrei qualche sospetto Con un'ambulanza che è tutta distrutta E gli mancano uno sportello E ha dentro due persone vestite così Però vediamo un po' Salve Qualcuno si è sentito male? Buongiorno Buongiorno Possiamo andare? Ci hanno chiamato Possiamo? Apri Vado? Lo posso su andare? Ok grazie Ha detto che non funzionava Che potetevamo entrare neanche così Buongiorno Buongiorno Ma funziona? Aspetta Cioè che dici? No dai Sì salve guardia Un prigioniero ha mal di pancia Dobbiamo assolutamente portarlo in ospedale Ok possiamo andare? Sì c'è un'epidemia di mal di pancia Dobbiamo È geniale Io non ci credo che ci hanno fatto entrare Subito 4 stelle Ok Ah ecco Allora L'hanno capito poi Allora 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 Qua non è male perché siamo nascosti dagli elicotteri Esatto esatto Mettiamo tipo l'ambulanza di così Per fare copertura Sì sì sono d'accordo Ok Ok E adesso pensiamo di ammazzare la polizia Stanno già arrivando però dai Dammi una mano dammi una mano Dammi una mano Dove sono? Qui davanti? Sì Mamma mia ma quanti sono? Tanti 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 Tannazione Mi sa che da dietro non penso arrivino eh Perché c'è un cancello in effetti Ok Secondo me è un pessimo tentativo Io te lo dico So io che fare Fuoco Oh mamma mia Comunque l'elicottero ci vede Fuoco Ci vede come l'elicottero Copriti qua copriti qua Vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui Aiuto aiuto Come sei di vita? Eh abbastanza bene Non benissimo ma abbastanza bene Controlla quelle gratte lì in alto Sopra di noi Che non arrivi qualcuno Ok E stai un po' più coperta L'elicottero Accidenti No sto morendo Ma perché mi chiamano sempre al telefono? Guarda io gli spacco la faccia Non lo so So solo che sto morendo Ci provo Ok Ottimo 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 Ok vieni più coperta Stai più coperta Vieni dove sono io Sì E io cerco di difenderti Recupero vita nel frattempo Quindi ci sono Ci sono Ok Coprimi perché mi prende un altro Giubbottino antiproiettili Io non li ho comprati Lo so Sono povera Mi stanno sparando Ma da dove? Non lo v... Dove? Da dove? Mi hanno ucciso Dove? Non l'ho capito Ho guardato tutto in alto Non c'era nulla Cos'è successo? È inspiegabile Non lo so Credo che ne avessimo uno Sopra le gratte Tipo Nuovo tentativo Macchina della polizia Sempre peggio Ebbè ovvio Cioè Tutta distrutta I vetri rotti Senza uno sport C'è ancora la nostra ambulanza Allora scusate Oh no E qui è chiuso Io sto succedendo a due ore E allora Scusami eh Ok Eh ti scuso Ma che problemi ci stiamo facendo Basta stare così E usi questa macchina come copertura Ora prendo anche l'ambulanza E metto un'altra cosa La copertura E li ammazziamo tutti Se lo dici tu Sì Secondo me gli elicotteri ci pigliano lo stesso No perché lì è tutto totalmente chiuso No perché dal tetto riescono a vederti eh Ce ne abbiamo a sinistra Non li vedi Non li vedo No stavo guardando in alto Pensavo lo faccio Qua 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 C'è un furgone con poliziotti Mamma mia Cerca di resistere Cerca di resistere Non ci manca molto Ad arrivare alla quinta stellina così eh Dici? Sì secondo me sì Allora cerco di far esplodere Ok Aia quanto son bassa Oh yes Stiamo facendo un disastro Una cosa assurda Lo so Tu continua con le granate Io continuo a sparare Ok Perché così non ti esponi Perché io sono ancora pieno di vita Ok ottimo Grazie a tutti Cinque stelle Cinque stelle Allora armati le granate Sì ci sono Ci sono Ci sono Fate pure io in questo esatto momento Arma le granate Salgo nella ambulanza E mentre scappiamo tutti di qualche granata Cerchi di far esplodere Tutti di noi Allora io ho capito che qua Siamo ben riparati Ma come accidenti usciamo Se l'unica uscita è quella Ed è piena di polizia Esatto Non ce la faremo mai Pronta con le granate Eh ce li ho ce li ho Ma non ce la faremo mai Te lo dico eh Lo so lo so lo so Sei salita? Eh non ci saliva Ok Allora ci sono Retromarcia veloce Non farle esplodere Mentre passiamo noi Dopo che passiamo subito la bomba Ok vado Ok vai inizia a tirarle Inizia a tirarle Inizia a tirarle Vai Perché non me le tiri? Non lo so Ecco me l'ha tirata ora Dimmi non qua davanti No dietro le sto tirando ovviamente Ok Vai ancora ne sto tirando Corri Ok sono andato slalom Io le tiro sempre dietro Quindi muoviti Siamo usciti Ce la facciamo Ok 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 Adesso Continua a tirarne dietro Adesso abbiamo uno dei veicoli più lenti del gioco E dobbiamo scappare da 5 stelle con elicotteri Oddio Ma seminare 5 stelle Cioè È difficile normalmente No no Secondo me è impossibile Con un'ambulanza Oh non mi rispondono eh Cioè che ti dicono? Che occupato? Non lo so Non mi porto la chiamata Aspetta ok Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Probabilmente non vogliamo avere nulla a che fare Dimmi che non sei morta No no Ci sono Ok Ci sono bastissima di vita Però sta arrivando l'elicottero di rinforzo Ok Io credo che se mi danno anche solo un colpo sono morto Avevo proprio un tantino così di tacca di vita Dovremmo cambiare veicolo ma non so come Ok Allora Non mi ricordo dov'è La pista Nell'eserto c'è una pista con gli elicotteri Se la raggiungiamo e prendiamo un elicottero possiamo seminarli Ok Cerca la nella mappa Io ne ho mentre continuo a muovermi Come a me lo chiedi? Eh si capisce perché sembra È proprio una pista Questa allora Questa Segnala 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 Non me la fa segnare No credo di Allora No È praticamente qua vicino Dammi le direzioni Vai 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 Qui a destra A destra a destra a destra E lì e lì e lì E lì e lì Sì è qua bravissima Ok Dimmi se vedi un elicottero o qualche tipo di veicolo C'è troppo buio non vedo nulla Lo so Lo so non si vede nulla Vai verso la pista Più verso la pista secondo me Vedi che siamo fuori Sì ma non ce ne sono Perché non ce ne sono È una pista Perché mi fate questo Allora Allora Facciamo tutto il giro della pista Perché dobbiamo essere veloci Secondo me lì dove c'era il capanno Allora dove è il nostro elicottero di rinforzo Uno parcheggiato lo troviamo Io l'ho pagato 5.000 e non l'ho mai visto Neanche io l'ho mai visto È vero Cioè ho pagato 5.000 No è una truffa Le fanno schifo Anche prima l'abbiamo messo È morto subito Cioè 5.000 a questo accidente di elicottero Guarda No non è mai Guarda l'ambulanza tutta bucata Questo qua terribile Ok Ce la tentiamo? Ma ci sta solo uno No ci stiamo Dici Il problema è che mi son buttato a tuffo Mi ammazzano mentre ci salgo Mi ammazzano mentre ci salgo Ci provo lo stesso Tu sei morta? Sì Cioè no Pieni 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 Eh sì vabbè No 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 Nien che si era messo in moto Perché fa schifo quello Lento lento Sembra di quegli elicotteri Degli agricoltori Che usano per annaffiare le piante No Cioè guarda quanta gente c'era dietro comunque Che figo Eh sì Eh sì Ma dai ma è appena comparso Proprio ora L'elicottero che lancia pure i missili Lo vedi questo nero? Quando siamo arrivati non c'era Allora Questa non è sfiga È un complotto contro di noi Te lo dico Non ci credo E direi di fermarci così per questo video Quindi niente 500.000 dollari da poter usare E ci sta Ci sta Rimaniamo poveri Ed è giusto così Peccato per questo elicottero E fateci sapere ovviamente nei commenti Se vi è piaciuta come sfida Proponeteci nel caso Qualche altra sfida da fare nella prigione Diciamo che d'ora in poi cerchiamo Quando ci proponete una bella challenge Molto originale O anche cose per cui si può fare Di mettere i commenti che compaiono Esatto Esatto Quando possiamo cerchiamo di farlo Così diciamo che almeno Vi ringraziamo per le cose proposte Quindi vedete un pochettino Se avete qualche idea Per altre challenge nella prigione Che sarebbe figo da provare E direi di fermarci così Per ragazzi Dici così Se ci lasciateci un bel like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao